Morgana, quella della mitologia celtica, induceva i marinai a lasciarsi andare a visioni di fantastici castelli per attrarli a sé e condurli a morte. La Morgana, che è attesa domani nel nord Italia, ivi compresa Piacenza, non è così crudele, ma è una perturbazione che farà dimenticare all'anticipo di primavera degli ultimi giorni, spolverando di neve le colline nostrane. Il clima mite che ha alietato le festività natalizie e l'inizio del nuovo anno è giunto al termine. Da domani sarà obbligatorio aprire l'ombrello e munirsi di sciarpe guanti. Qualche grado in meno sulla colonina di Mercurio, 4 o 5 gradi nei livelli massimi, mentre le minime si assisteranno intorno allo zero, porterà freddo intenso e pioggia mista a fiocchi di neve anche in pianura. Il cielo si presenterà coperto molto nuvoloso, la classica coltre plumbe H accompagna l'arrivo delle precipitazioni, che saranno più consistenti sopra i 300 metri, dove potrebbero scendere fino a 10 cm di neve. La fredda perturbazione nord-atlantica, spinta dal nord e dall'orso siberiano, che si muove in modo retrogrado dai montiurali verso il continente europeo, associata a un vortice di origine atlantica, stazionerà sulla nostra provincia fino a mercoledì 16 gennaio, giornata in cui è attesa la neve, questa volta non mista a pioggia, anche in città. L'arrivo del maltempo ha già fatto scattare il piano neve-gero della rete ferroviaria italiana. Al momento sono confermate tutte le partenze e gli arrivi dei treni, secondo l'orario in vigore. Il servizio potrà subire modifiche qualora la situazione del tempo peggiorasse. Il personale delle ferrovie è stato allertato perché garantisca la fruibilità delle stazioni con la pulizia dei marciapiedi e lo spargimento del sale per evitare la formazione di lastre di ghiaccio. Il piano di corse raschi a ghiaccio, al fine di mantenere in efficienza le linee di alimentazione elettrica, è stato attivato anche in Emilia.